Il punto centrale, cari italiani, oggi c'è un governo che vi dice che dal primo di maggio mettiamo dei soldi 10 miliardi di euro per 10 milioni di persone che stanno sotto i 25 mila euro. E questa cosa qui, nonostante altri tipi di gufi, c'è, è percorribile, è fattibile. Cari imprenditori, piccole e medie imprese, 10% in meno dell'IRAP, 10% in meno di bolletta sull'energia elettrica. E questa, nonostante i gufi, c'è. Cari amici italiani, ad aprile si fa la riforma della pubblica amministrazione, a maggio si fa la riforma del fisco, a giugno si fa la riforma della giustizia. Dopodiché, e chiudo, ah no, c'è la barba, scusami. Però, una cosa seria, me la fate dire. Non si è mai visto un percorso di riforme così corposo e significativo. E io aggiungo qui, prendendomi la responsabilità, che se non riesco, non considero chiusa l'esperienza del governo, considero chiusa la mia esperienza politica.